Pienone delle grandi occasioni Le occasioni al Teatro Verdi con il coro Città di Padova e l'orchestra regionale Filarmonia Veneta Con una sala gremita e piena di tricolori, la serata ha fatto riscoprire a tanti pordenonesi l'orgoglio nazionale Il sindaco di Pordenone, Sergio Bolzonello Un concerto per l'Unità d'Italia, organizzato dalla presidenza del Consiglio Comunale, dal dottor Romor Proprio per tenere assieme tutta la città sui grandi temi dell'Unità d'Italia Questi sono temi anche scottanti, anche in questo momento controversi Ma io vedo che la maggioranza, la grandissima maggioranza delle persone vogliono un'Italia unita Vogliono un'Italia che pur nella complessità della sua lunghezza e della sua formazione Continui a sfidare il futuro tutta assieme È impensabile un qualcosa di diverso, è impensabile una divisione perché non ci porterebbe assolutamente da nessuna parte Invece bisogna rimboccarsi le maniche e guardare al futuro dei nostri figli attraverso opere, attraverso azioni che vedano unito il Paese Grazie 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 Grazie